Vieni con me nella città di Pietra Calabrese. Siamo a Zungri, in provincia di Vibo Valencia. A due passi da Monteporo e la famosa Tropea. Qui possiamo visitare uno degli insediamenti rupestri più famosi in Italia. Di origini antichissime e a volte nel mistero. Con un biglietto che costa 4 euro puoi visitare l'insediamento rupestre degli sbariati e il museo della civiltà contadina e rupestre. Merita anche un giro per il borgo, che è stato di recente valorizzato da artisti locali. Portoni di pindi, filastrocche, un tripudio di colori. E tu, ci sei stato nella città di Pietra Calabrese? Fammelo sapere nei commenti. Condividi il video.